I will be the one to let this go Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di CastleCrasher E' da epoche che non siamo più qua e quindi siamo qui Gli dovina con chi siamo? Ragazzi? Il signor Ezra che sta morendo malissimo per colpa di pesci Di pesci? Io vado sul cadavere, io vado sul cadavere No tu non vai sul cadavere Io vado sul pesce Io muoio Ma si può ammazzare con il pesce Comunque abbiamo potuto rifare la parte di prima per problemi tecnici Giusto? Eh già, in effetti ci ha fatto ripartire da prima Un cocodrillo Il cocodrillo Il cocodrillo Il cosa? Tu non parli italiano Cocodrillo Cabe cabe a big bag No, cabe cabe a big bag E' da un po' che non registriamo Cioè da epoche che non registriamo questo gioco In effetti Io voglio finire Talmente che quando abbiamo ricominciato a registrare Tipo io non ne ho neanche 50 iscritti Mi sa Adesso sono 63 Ah, no, ma io potevo muovermi con una scheggiottera Urlante Ricordiamoci che lui gioca con tastiera Io gioco invece perché sono YOLO Con il coso della Playstation 3 Perché sono YOLO, eh? Mi ricordo che giocare da tastiera è la cosa più difficile Su questa terra No, non è la cosa più difficile No Ok, però se no, però è difficile Sto scherzando Riffondiamoci che l'episodio 2 è ritrovabile sull'altro nel mio canale per problemi sempre tecnici Sì, perché il mio personaggio è dislivellato dal livello 8 al livello 2 E io ero sanno di nuovo al 7 allato lo stesso qui Come si difendeva? Ok, così, con questa lag Momenti di lag in attesa di altri giocatori Ed, smettila di scaricare porno No, non esattamente Però Datemi la ciliegia, che io c'ho due a capito No, arrivano 2 persone, va, va, va Ma perché ti puntano tutti me? Perché sei tipo il tank del gruppo, forse Ti posso dire Hai speso più tu in difesa? Non lo sai Non è che cambia, in realtà, se hai speso più tu in difesa Dovrebbero puntare ugualmente tutte e due Però A me va benissimo A me va benissimo che puntino te, eh Te lo dico chiaro Ma perché puntano me? Cioè, a me va bene, eh, denominamento Sono morto, appunto, ti parevo Maledizia, fatevi salire sopra qualcosa, così posso spammare Ok? Ciao Dai, attaccami Mi stavo in manca Uno No Morto uno Schivato l'altro La parte più movimentata del mo Sono morto Anche io Perfetto, ragazzi E vai Io mi devo potenziare un po' No, era full magia Eri full magia con un tocco di difesa Quindi metti magia No, ne va ne... Vabbè Io invece ero più equilibrato Però voglio farlo full magia Eh, però stavolta vado in più full attacco Bene, ok, interessante Siamo arrivati via, no, qui, giusto Andiamo nella discesa delle rapide di nuovo Eh, ragazzi Che bello Sono i cervi, intanto Lo so sto dire, ci cervi Eh, sullo squaletto Sì Sì, se lo squalo Perfetto Però adesso ti picchio Io sono potente In acqua Perché Perché sono full magia E faccio degli attacchi No, anche io Invece avevo gli attacchi semplicemente più swag Perché faccio questo Io faccio questo Al contrario suo Quindi sono più swag Inutile Eh, ma io sparò palline Io sono però over livellato A caso Perché sono più potente Perché io pox Però lui Io so che io so questo No, ho sbagliato l'altro Vedete, io posso sparare cose strane Capito? Quindi è bella la vita Ma io li disturbo con un colpo Fammi capire L'ho preso ora Non morire Semplicemente non morire Attaccalo con la tua fottuta magia più figa Vabbè, io mi frogo La mia magia è più bella Però io Sì, però io lancio le kamehame Cioè, è inutile No, le attacchi più belle Però è un modo potente Vado, vai, tira la terra Metti la terra Io lancio Vedi? Io lancio questi Che sono più fighe Effettivamente Adesso Ma che lo schivate Ma che lo schivate Sì, però io lancio questo È un modo potente dell'intero universo Perché io li schivo Hashtag come schivare Hashtag come schivare, esatto Però non prendono questi Ma perché prendono questi pipistrelli Così? Che tu tipo li fa pif Davanti e muoiono Oh sì, perché Perché tu fa pia la gente davanti È inutile Tu fa pia la gente È inutile Io volo via Dammi lo squaletto Dammi lo squaletto Adesso prima siamo morti qua, giusto? Quindi adesso non moriamo più Però Al momento Vai vai Mi danno sempre te Per prima È bello loro Io prendo e sparo le ma... Però il contrario tuo Io li piglio tutti e due Con una magia E poi gli faccio danni di fuoco Eh, io il contrario Tu non ho appena fatti due Sì, perché Vabbè Gli avevo già messi low io Cioè, perdonami Sì, però la mia scossa è qualcosa di assurdo Perché prende Eh, ok Questo è un cazzoso Eh, ok E fai Va bene Adesso poi ti spiego come si fa io sto boss Distruggi la palla di pelo Non attaccarlo Distruggi la palla di pelo Aspetta che spara il cannone E adesso attaccalo Perché se no non gli fai danno, capito? Vedi, gli fai due, uno Io La magia gli fa un po' di danni Eh, perché mi sta Mi vuole stuprare Mi ha messo all'angolo Mi vuole stuprare Che poi dietro c'è l'orsetto che lo comanda Non noti? Cioè Cioè Guarda dietro Guarda dietro al vostro L'hai notato? Che c'è l'orsetto Ok, attacca, 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 attacca No, lo stavo mancando Ma nessuno La magia non gli fa niente Io levelappo Io levelappo a caso comunque È inutile Io sono over livellato Aia Io posso over livellare Ed? No Ed non puoi livellare No, ma perché no? Ed non puoi livellare È inutile ragazzi Però Palla di pelo Sto nascondendo Vieni qua ad aiutare Sto perdendo Attaccalo Attaccalo Magia Oh, critico Signori critici Ed flame for the crit Ed ma ce la farei Sul tronco Ce la fai a livellare Un livello Due Prima o poi Sta respirando acqua? Non ne idea Ha detto sbattere Contro in cosa? Ma dai Complimenti Questi boss Che poi è tipo sporco di sangue Questo sarebbe un pesce gatto Lo sai Ma no Ma Ha puntato me Sei un genio Gli hai fatto mancare la palla La palla di cannone Perché ti muovi avanti Indietro come un deficiente Guarda Hai fatto così Mettiti qua Mettiti davanti al tizio Devi metterti davanti a questo Al re Mettiti davanti al re Come me Pi basso Vabbè Fa nulla Non sei presi danni Adesso Non sta Stai davanti Qui Non andare lì a fancù Vabbè punta a me Quindi Io mi faccio colpire per la patria Che bello Che star lì Fluttuarvi a fianco ai denti Che sono molto puliti Sono molto pulitissimi Comunque gli facciamo danno a Io Te lo voglio con un nuovo testimonial Della menta E mi Mi frega L'affare Eh che cavolo vuoi Della mia vita Damela No No Quando dico Dai mira a me Mira a me Mira a me Gattone Vabbè Gatto Colpo 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 Devi distruggere il coso Ed Ed Devi distruggere la palla di pelo Pirla Che se no va a rompere le palle al re E lo può fare Solo uno che sopra i cosi Oh yeah Non ci stai a capire nulla Vero Basta basta Fallo venire di qua Hai problemi Hai problemi di conoscenza generale Ah adesso si piglia 10 danni Adesso Distruggo io la palla di pelo Giustamente Però devi stare verso il re Non ai lati Ah ma Perché se no non gli arriva Devi schivare in un altro modo Adesso vola e colpisci Ma se volo Io non volo Io l'amero poco E mi rimane vivo Vabbè dai Dai fallo Io so morenda però Sei utile Ma non mi fa prendere il crocco Perché è più dietro Problemi di deficienza mentale Ragazzi Adesso Attacca di magia Se usi l'altro tasto Hai la magia secondaria Quando salti E funziona Attacca di corpo a corpo Vabbè l'ho ucciso io Ecco perché ho per livello Perché io l'uccido Tu no Bene ragazzi Abbiamo fatto Vedi capito Io faccio le t3 kill Tu 11 Capito perché ho per livello Cattivo Vieni qua E io il livello di nuovo Giustamente Vado full form No anzi Adesso metto uno E uno E poi ando Quanto abbiamo messo Vabbè Chiudiamo qua Ettolo Credici Vabbè Ciao a tutti i ragazzi Qua Daniel è tutto Ciao Ciao